Il consigliere regionale del PDL Gianni Rosa sollecita la giunta regionale ad intervenire per venire incontro alle esigenze dei comuni colpiti dal terremoto. Nel biennio 90-91, ricorda Rosa, vi furono due eventi sismici che colpirono vaste aree della Basilicata. A seguito del sisma del settembre del 1998 che colpì il Lago Negrese, il legislatore emanò la legge 226 del 1999, con la quale, sottolinea Rosa, furono disciplinati gli interventi per il finanziamento della ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto. Con l'interrogazione, Rosa sollecita la giunta dei Filippo ad un immediato intervento finalizzato a soddisfare le legittime esigenze dei comuni colpiti dall'evento sismico affinché la popolazione residente possa ottenere i finanziamenti per la ristrutturazione post-terremoto.